Il Mastio e la Sala del Parlamento del Castello di Milazzo sono finalmente fruibili. Dopo ben 15 sopralluoghi è arrivato il nulla osta della Commissione di Collaudo Tecnico-Amministrativo in corso d'opera e finale dei lavori di conservazione e valorizzazione della cittadella fortificata. Le verifiche e gli accertamenti sono stati complessi ed hanno riguardato anche la funzionalità dei Servo Scala per Disabili, il sistema anti-intrusione, il sistema di videosorveglianza e gli impianti di illuminazione ordinarie e di emergenza. La notizia ha suscitato la soddisfazione del sindaco Carmelo Pino, che ha evidenziato come si sia proceduto per gradi per non creare facili illusioni. Dapprima infatti è stato riaperto il castello nelle parti consentite, come il Monastero delle Benedettine, grazie ad una consegna provvisoria dell'area interessata e con il contributo della Compagnia del Castello e di altri volontari, coordinati dall'assessore Dario Russo. Il sindaco di Milazzo ha anche evidenziato come proprio recentemente il Comune abbia ricevuto il via libera da parte del Demanio a stipulare una convenzione della durata di sei anni per l'utilizzo dell'antico maniero a titolo gratuito. Adesso che tutto il castello è fruibile, occorrerà sfruttare nel modo più profiguo tutte le sue attrattive culturali, che possono costituire un importante volano di sviluppo per tutta la città di Milazzo.